Asimmetria e opportunità, un contesto di maggiori tassi di interesse che avrebbe dovuto costituire una concorrenza all'equity, non ha mutato i paradigmi per via del fatto che questa volta, per la prima volta negli ultimi 60 anni, la curva dei rendimenti invertita non ha anticipato una recessione. Cosa è successo e cosa succederà nei mesi avvenire? Sarà il tema che tre famosi analisti SIAT, Francesco Caruso, Gaetano Evangelista, Bruno Nappini, affronteranno nella Roundtable, dal titolo Last Quarter 2023, From Tina to This Time is Different, moderati da Annabella d'Argento. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, ben trovati, saluto tutti quelli che sono collegati, noi siamo in una bellissima sala del 600 qui al Palazzo Giure Consulti di Milano, il parlamentino così mi hanno detto che veniva chiamato. Allora, siamo qui, sono in compagnia con tre soci professional SIAT, che adesso vi presento, partiamo dal titolo di questo spazio, From Tina to This Time is Different, con un punto di domanda. Domanda a cui oggi noi cercheremo di rispondere con tre punti di vista differenti, tre punti di vista dei nostri qui soci qui presenti. In una prima parte faremo un'analisi di scenario, in una seconda parte poi approfondiremo, daremo un po' più di indicazioni su quelle che saranno, su quelle che sarà l'ultima parte di questo 2023. Avremo il punto di vista di Gaetano Evangelista, qui alla mia sinistra, specializzato in analisi tecnica, quantitativa e macroeconomica, responsabile ufficio studi e amministratore di Age Italia. Benvenuto Gaetano. Grazie. E poi ecco la mia destra, Francesco Caruso, membro del comitato scientifico di SIAT, fondatore della Market Risk Management di cicli e mercati, che è un hub indipendente di studio e analisi quantitativa su cicli e mercati e svolge attività di advisory e ricerca e opera i suoi strumenti dati, analisi statistica e algoritmi. Grazie Annabella e buongiorno a tutti. E poi abbiamo dalla Toscana, ci ha raggiunto Bruno Nappini, specializzato nella costruzione e gestione di portafogli in opzioni e future sui principali sottostanti europei e americani, si occupa di formazione finanziaria avanzata in opzioni e derivati con Sunny Money, di cui è fondatore Sio. Benvenuto anche a te. Allora, ripartiamo da TINA, che è l'acronimo, come molti di voi sapranno, di There is no alternative, riferito ai mercati azionari che dall'inizio dell'anno sembravano meno allettanti dei loro rispettivi equivalenti, dei loro equivalenti a reddito fisso. Ma nonostante tutto, nonostante tutto quello che abbiamo vissuto quest'anno, si sono aggiudicati la medaglia d'oro per la resilienza. Già ai primi mesi dell'anno abbiamo assistito a performance a doppia cifra, in particolare per il Nasdaq americano e il mercato azionario italiano di piazza affari. Anche le economie dei paesi sviluppati si sono dimostrate più resistenti del previsto, però da due anni a questa parte la narrazione, la narrativa è che ci attendiamo una recessione che sembra sempre imminente ma che in realtà finora non abbiamo ancora visto. Nella prima parte dell'anno a sostenere i mercati azionari è stata la crescita economica. Ad oggi siamo all'inizio di questo nuovo trimestre, l'ultimo dell'anno, i mercati sono reduci da un trimestre molto difficile, da un settembre duro, il Dow Jones pochi giorni fa è passato in negativo per il 2023, gli indici come dicevo sono reduci dal peggior mese dell'anno, causa soprattutto della volontà della Federal Reserve di alzare ancora i tassi di interesse prima della fine dell'anno che potrebbero restare più elevati, più a lungo del previsto per combattere l'inflazione. Pertanto si è passati da Tina a uno scenario di high for longer che ha prodotto questa ondata di rialzi di rendimenti partita dagli Stati Uniti con i rendimenti che sono decollati a livelli del 2007 se pensiamo al decennale americano o al trentennale. Si è passati quindi a uno scenario diverso, l'attenzione del mercato sembra essersi spostata dalla crescita al quanto a lungo ci saranno questi tassi più alti, per cui si assiste anche a un paradosso per il quale le notizie macroeconomiche che sono deboli, sono in particolare riferite al mercato del lavoro e tra poco avremo degli importantissimi dati in un farm per all, le notizie macroeconomiche deboli vengono accolte in maniera positiva dai mercati. A questo ci aggiungiamo anche il rialzo del prezzo del petrolio che aveva raggiunto pochi giorni fa il livello più alto dallo scorso novembre che presenta una correlazione diretta con i rendimenti statunitensi. Abbiamo questa tria del dollaro forte, il petrolio e i rendimenti che stanno contagiando anche i tassi nell'eurozona che presenta però a differenza degli Stati Uniti una crescita più fragile. Concludo questa panoramica con la questione della maggior offerta di bond che i mercati dovranno assorbire in un momento in cui le banche centrali però non stanno comprando più e un aumento globale quindi che è comune a tanti governi che pesa o peserà maggiormente su quelle economie che risultano più indebitate come appunto quella italiana. Allora io partirei da Gaetano Evangelista, abbiamo detto il grande tema, l'abbiamo citata, la recessione, il rischio di recessione sicuramente è strettamente legato agli effetti anche se ritardati delle politiche monetare delle banche centrali, c'è chi pensa a un hard landing, chi ha un soft landing. Diciamo che il campanello d'allarme in questi due anni è stata la curva dei rendimenti che è appunto per l'economia il campanello d'allarme potenzialmente precursore di una recessione appunto, una recessione che però non si è verificata. Allora ecco ti chiedo questa recessione alla fine ci sarà? Grazie Annabella, ben trovati. Effettivamente io credo che il titolo della nostra chiacchierata di oggi è stato molto coraggioso perché chi si occupa di finanza è sempre molto esitante a concludere in maniera un po' sbrigativa che questa volta andrà diversamente. Tipicamente questa espressione emerge quando ormai siamo all'inizio, alla vigilia di un ribaltamento delle tendenze che portano gli osservatori a concludere che questa volta non andrà come sempre. Però in questo caso effettivamente la novità non è tanto sul fronte strettamente finanziario ma quello ovviamente collegato e a monte che è il tema, il contesto macroeconomico. Perché per la prima volta da quando disponiamo di dati affidabili, quindi inizio anni Sessanta, questa famosa curva dei rendimenti, quindi questa situazione anomala per cui i tassi di interesse a breve scadenza si colocano al di sopra, anzi dei tassi di interesse a lunga scadenza, questo fenomeno temporaneo e anormale non ha prodotto, non solo non ha prodotto una recessione, ma perdura da quasi un anno, perdura da 242 sedute che è un arco di tempo senza precedenti, veramente questa volta è diverso. Al momento non c'è ancora stata una recessione e mai la curva dei rendimenti è stata così invertita. Questo chiaramente ha scatenato una serie di ipotesi sul perché si sia manifestato questo fenomeno, però per quello che ci riguarda in questa sede effettivamente questa volta la curva dei rendimenti ha fornito un messaggio fino a questo momento sbagliato o comunque probabilmente precoce o comunque non così affidabile, non così credibile come in passato. Fra l'altro faccio presente, faccio notare come questo fenomeno non riguardi soltanto il confronto fra due punti ben precisi della curva dei rendimenti che nell'immagine precedente era dieci anni contro tre mesi, ma se prendiamo tutti i segmenti, tutti i pezzettini della curva che va da tre mesi a trent'anni, effettivamente in questo momento l'85% delle curve dei rendimenti si presenta in questa modalità anomala, negativa, quindi con le scadenze più brevi che si collocano al di sopra delle scadenze più lunghe. Eppure, eppure questo non ha prodotto nessuna recessione, gettando chiaramente nello sgomento non solo gli economisti che hanno profetizzato con un po' di leggerezza, passatemi il termine, questo scenario fosco già alla fine dello scorso anno, ma anche gli operatori finanziari, quindi gli investitori privati ma anche istituzionali che alla fine dello scorso anno hanno formulato una asset allocation, quindi una scomposizione del portafoglio che si basava sulla ipotesi molto molto perentoria di una recessione che non si è manifestato. In questo contesto, poveri economisti che, per la verità, dati dalla Federal Reserve, mai hanno anticipato una recessione, considerate che le ultime due grandi recessioni dal 2000-2002, dal 2007-2009, nonostante la gravità, la solennità, la pesantezza di questo evento, nel complesso gli economisti monitorati dalla Federal Reserve, soltanto per un terzo o poco più hanno anticipato il precipitare degli eventi che di via breve si sarebbe manifestato. Questa volta è diverso anche da questo punto di vista, perché per la prima volta, alla fine dello scorso anno, quasi la metà, vedete, degli economisti ufficiali si attendevano a una recessione, quindi questo per darvi proprio la misura di come questo sentimento fosse risultato corale, questa aspettativa fosse quasi plebiscitaria, vista la proporzione con cui una categoria sempre molto cauta ha anticipato questo fenomeno prima del 2023. Il mercato, anzi l'economia, beffardamente invece ci ha consegnato una crescita economica quasi senza precedenti. In termini nominali, quindi considerando anche l'inflazione, dal minimo ciclico del 2020, quindi tre anni e mezzo, l'economia americana è cresciuta del 40%, altro che recessione, quindi un'espansione che dal dopo guerra in poi di misura è stata soltanto altre due volte registrata e in entrambi i casi il mercato azionario ha salutato con favore questa espansione. Evidentemente c'è un nesso fra economia reale e mercati finanziari, in questo caso mercato azionario, quindi altro che recessione l'economia americana è cresciuta, ma la notizia che ci interessa da vicino è che non è soltanto quella americana, perché l'Ocse, che come sapete è questa organizzazione che la gruppa monitora le economie sviluppate, ma tiene conto anche delle principali economie emergenti, in questo momento ci dice che a settembre ben 5 economie su 17, quindi una minoranza ma importante, è crescente soprattutto, ben 5 economie su 17, vanta appunto un'espansione, vanta un leading indicator, quindi un misuratore di stato di salute dell'economia che si colloca al di sopra di questa asticella che è quella dei 100 punti che contrassegna, quindi delimita espansione da recessione, quindi l'economia non sta accadendo in recessione, al contrario sta migliorando, anche se in contesti probabilmente lontani geograficamente, che sono quelli delle, diciamo, una volta si diceva l'economia emergente, diciamo il nuovo mondo economico. Questo ci interessa come investitori, come analisti e poi come investitori, perché questo ha un'importanza fondamentale sulle prospettive del mercato azionario. Se considerate che possiamo strutturare un indicatore, un indice di diffusione, cioè un indice che misura il numero delle economie che si presentano in crescita rispetto ad un anno fa, come in questo caso vediamo, notate come veniamo da una fase in cui il numero di economie in espansione era zero, nel 2022, ad un numero in cui le economie in crescita sono ben 7 su 17, quindi quasi la metà. Soprattutto il transito da una fase di prostrazione economica, quindi nessuna economia in crescita, crescita 0 su 17, da una fase in cui un certo numero, 7 su 17 di economia si espande, ecco è una fase in cui il mercato azionario risponde da quel momento in avanti, risponde progredendo, migliorandosi. Quindi questo transito da una auspicata, temuta, paventata, ma scongiurata in questo momento recessione, ad una fase in cui l'espansione si sta allargando a più pieghe del globo, è una fase che di solito non si registra sicuramente sul minimo del mercato azionario, ma è una fase che precede ulteriori sviluppi favorevoli, benigni per il mercato azionario, in questo caso globale. Quindi questa volta è diverso, probabilmente sì, certo c'è un problema sicuramente di eccessi, ma magari se ne avrò la possibilità nella seconda parte avrò modo di soffermarmi anche su questo aspetto. Assolutamente, molto interessante. Sicuramente tradizionalmente la curva dei rendimenti non è stata così negativa per così tanto tempo, no? Assolutamente. Non è sicuramente il tema di oggi, ma probabilmente una delle motivazioni per cui l'economia è stata in grado di continuare, nonostante una curva di rendimento invertita, in particolare vi possono essere gli effetti resistenti dei mastici stimoli di natura fiscale e monetaria adottati durante la pandemia, nonché il ritardo con cui gli aumenti dei tassi delle banche centrali si stanno trasmettendo all'economia. Potrebbe essere questa, insomma, una delle motivazioni. Allora, sicuramente il suo Gaetano Evangelista ci ha descritto una, sicuramente quella che è una discrepanza, un'anomalia, Francesco. C'è un tema quindi di lettura dei dati, il mercato ha gli stessi dati, magari li può anche leggere in maniera differente. La recezione attesa con l'occhio ai dati macro e il balzo dei rendimenti sono i temi, i temi caldi per gli investitori tutti, istituzionali e retail. Dal tuo punto di vista, dai dati di mercato che tu analizzi, la recessione è una possibilità oggettiva? Ci sono altre asimmetrie che riscontri? Allora, intanto a me piace molto tutto quello che dice Gaetano. È un uomo intelligente, quindi io ho cercato di affrontare il discorso da un altro punto di vista. Il titolo del mio intervento è Quant View of a dysfunctional market, dove il market è nascosto, perché ci sono un numero incredibile di disfunzionalità in questo mercato, in questa fase di mercato. Io cerco di farvele vedere con i numeri. Allora, intanto ci sono due parole che sono le parole dominanti dell'ultimo anno e sono recessione, rendimenti. Praticamente non si parla di altro. Allora, cerchiamo di vedere un quadro numerico del discorso dei rendimenti. Allora, questa tabella illustra di fatto, nelle varie colonne, il reddito a scadenza attuale, quello dell'inizio di questa fase, cioè del 31 dicembre del 2021, quando ancora tutti navigavano in questo mare delle fatine rosa, dei tassi zero, e nessuno si aspettava quello che invece era evidente aspettarsi. E non è stata colpa della invasione russa dell'Ucraina. Non diamo le colpe alle cose sbagliate, perché basta vedere questa tabella per vedere che al 31-12-2021 l'inflazione in Italia era al 5-10%, in Europa al 5% e in America al 7%. Che senso avevano i tassi di quel momento? Era evidente che gli investitori si sarebbero presi a quella che adesso sappiamo essere il vero 2008 di tutto il mercato obbligazionario, cioè un disastro totale con pochissime possibilità di ritorno e spiegheremo perché pochissime possibilità di ritorno. Qual è la foto di questo momento? La foto di questo momento è che ci sono pochissime classi di asset obbligazionarie che hanno uno sharp positivo sia dal punto di vista storico che dal punto di vista prospettico. E queste classi obbligazionarie sono la parte brevissima della curva italiana, quella tedesca, mentre le parti lunghe ancora sono in una fase di grossa disfunzionalità. E a nostro modo di vedere è un azzardo gravissimo andare a posizionarsi in questo momento sulla parte lunga della curva, come hanno fatto nell'ultimo anno tutti gli investitori pensando di anticipare una recessione che, come diceva giustamente Gaetano, non è mai arrivata. E poi ci sono delle nicchie, come gli high yield intesi non come singole emissioni, ma come classi di asset che rendono moltissimo, molto più dell'inflazione in questo momento. E infatti sono le classi di asset che noi stiamo spingendo costantemente negli ultimi mesi, anzi anche da più tempo. Ora io mi faccio qualche domanda che poi pongo anche idealmente a voi e della quale ovviamente vi do anche la mia risposta. La prima domanda è davvero le banche centrali vogliono abbassare i tassi? Io forse non penso che l'investitore non si renda conto di una cosa enorme, e cioè che i tassi e rialzo in una situazione, e l'inflazione in una situazione di enorme debito pubblico, sono il cibo degli dei per le banche centrali e per le assicurazioni e per i fondi pensione. Come avrebbero fatto i fondi pensione a sopravvivere nel lungo termine con i tassi a lungo termine a 1%? Non potevano, e le banche centrali lo sapevano perfettamente. Quindi la domanda che mi faccio è, ma davvero non siamo capaci di vedere veramente al di là della prima collina e capire che i tassi elevati sono in questo momento una necessità, non sono una sfizio o una cattiveria da parte delle banche centrali. Davvero gli investitori non capiscono questo tipo di logica. Davvero, per ritornare a questa tabella, riteniamo logico che il dieci anni italiano e il dieci anni americano rendano la stessa cifra. Non lo so. Lascio a voi anche queste risposte a queste domande, perché secondo me sono molto importanti. E poi noi tutti aspettiamo la recessione. Chi ce lo dice che c'è una recessione? Ce lo dice l'NBIR, il National Bureau of Economic Research. E il National Bureau of Economic Research che cosa dice, ma soprattutto quando lo dice? Qui ci sono le date in cui il National Bureau of Economic Research ha annunciato le recessioni e l'uscita dalle recessioni ufficiali. È veramente assurdo aspettare che ce lo dicano loro. Dobbiamo trovare delle modalità per capirlo prima. Tra queste modalità per capirlo prima, una importante è scattata proprio in questi giorni, che è quella relativa all'unemployment rate americano, il tasso di disoccupazione americano. Voi vedete che in questo grafico c'è il tasso di disoccupazione, quegli istogrammi rossi sono le recessioni ufficiali dell'NBIR e poi quella linea blu a scalare verso il basso non è altro che il massimo del tasso di disoccupazione dei 12 mesi precedenti. Ora, facendo un modellino di breakout veramente di una banalità sconcertante, cioè andando a dire al modello di acquistare tra virgolette disoccupazione ogni volta che la disoccupazione supera il massimo dei 12 mesi precedenti, si ottiene un modello che identifica alla perfezione tutte le recessioni del passato. Questa volta sbaglierà? Non lo sappiamo. In questo momento io ho un recession indicator che è salito nell'ultimo mese ma non è ancora a livello dell'indicazione di una recessione. Però ci sono la consumer confidence che sta venendo giù, soprattutto in Europa è drammatica, ma ovviamente nessuno ne parla. In America sta ballando poco sopra al 100 e a 103 e non è bellissima, non è in una posizione bellissima. E le borse hanno dato i primi veri segnali di scricchiolio dopo tempo e le borse sono un leading indicator potentissimo. Quindi dovremo cercare di vedere. E adesso ci sono due incognite enormi che io butto sul tavolo. La prima incognita enorme è ci siamo dimenticati che l'anno prossimo ci sono elezioni americane? Perché se ce ne siamo dimenticati ve lo ricordo io e vi ricordo una statistica e cioè che tutte le volte che c'è stata una recessione nell'anno precedente alle elezioni americane è cambiato il colore del presidente. E quindi Biden e l'amministrazione Biden faranno fuoco e fiamme, lotteranno con le unghie e con i denti per evitare la recessione in America perché sanno che la recessione andrebbe inevitabilmente a favorire l'altra parte. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione come ho detto prima disfunzionale dove ci sono segnali contrastanti che arrivano dalle diversi insiemi che noi possiamo come osservatori analizzare per cercare di vedere questo. Termino questa mia prima parte con una bellissima slide che viene da una presentazione del 2017 dell'ingegner Sergio Paolino che è Lifetime Achievement di analisi tecnica a livello mondiale. In questa presentazione di cui ho estrapolato una slide lui presentava il discorso della teoria delle catastrofi ma non come iettatore o così cercava di spiegare dal punto di vista matematico da ingegnere che esistono dei punti di disequilibrio che sono letali per i mercati. E in questa slide lui fa capire che da un lato c'è la parte che va quindi là che è l'inflation rate quindi l'ordinata possiamo chiamarla, l'ascissa è il tasso di sconto ufficiale. Quando queste due si alzano troppo e a quel punto lì tirano troppo, c'è troppo uno strappo dal mercato, a quel punto si crea una specie di punto di sbilanciamento tra il punto 5 e il punto 6 e quella è la fase dove il mercato cade in un vuoto di qualche cosa che non si aspettava. Quindi le banche centrali non sono sprovedute, sanno questo e quindi cosa faranno per cercare di mantenere questo difficilissimo equilibrio? Questa è la domanda e poi dopo nella seconda parte vedremo e allora diciamo che vi trovo abbastanza concordi almeno in questa prima parte. È interessante il discorso di tutte queste discrepanze, anomalie del sistema, del mercato. Bruno Nappini ci fornisce un ulteriore punto di vista, un punto di vista diverso, il suo è un approccio da opzionista del mercato dei derivati, come lo dicevamo, che assorbe, come puoi confermare Bruno, circa il 70% dei contratti e riveste un ruolo fondamentale nella creazione del prezzo. Insieme adesso andremo a vedere con te come si sono mossi gli operatori, come hanno gestito il rischio nei primi trimestri e poi ci darai anche indicazioni sui posizionamenti monetari in vista della prossima importante scadenza trimestrale di dicembre che se non sbaglio è il 15 che chiude l'anno borsistico. Una delle variabili fondamentali per le opzioni è sicuramente la volatilità, il VIX in questi giorni lo troviamo a ridosso dei 20 punti. Il grafico daily invece dell'S&P 500 mostra una forza realzista che lo ha portato dei minimi di ottobre 2022 ai massimi di luglio 2023, ora in aria circa 4.300 punti. Esattamente. Ecco perché nomino il VIX e l'S&P 500, ora ci dirai meglio tu perché tra i due, questi due indici c'è una correlazione inversa. In questa fase di mercato cosa ci sta dicendo il VIX e l'S&P 500, in che area si trova il mercato ribassista o rialzista e quali importanti informazioni riesce a fornirci lo specialistico mondo delle opzioni Bruno? Bene, grazie, grazie mille Annabella. Allora io partirò con analizzare il grafico dell'S&P 500 in modo molto rapido e veloce. Si vede che è un indice che ha avuto una forza relativa che, come ha detto Gaetano, questa volta è diverso, che non ha tenuto fede a quelli che potevano essere, non è un indice recessivo mi sembra. È partito a gennaio questo indice con un prezzo molto basso a 3.800, ha avuto delle incertezze perché c'è stato un momento di paura per il default americano, la crisi sistemica delle banche, poi è ripreso da 3.800 in poco tempo, ha rotto gli argini e è arrivato a 4.600. Adesso sta rientrando un po' nelle sue aree di competenza. Questo per dire che cosa? Per dire che il mondo dei derivati, come ha detto giustamente Annabella, concorre molto alla creazione del prezzo e concorre anche e soprattutto, per effetto di certi meccanismi che sono il rischio gamma e il rischio vega, a spostare anche di molto per certi periodi il fair value, ovvero il giusto prezzo di un determinato sottostante. Allora, faccio un veloce preambulo, ha già detto qualcosa Annabella, il 70% degli scambi sui mercati finanziari vengono effettuati soprattutto da algoritmi e soprattutto nel mercato delle opzioni l'algoritmo lavora in modo univoco perché protegge legger colui che è scoperto di gamma, ovvero colui che è venditore di opzioni e lo protegge nel momento in cui il gamma gli va contro. Io che ho fatto degli esempi semplicissimi, sono venduto di call per proteggere il gamma di questa call che mi sta diventando da ATM devo entrare con il future, quindi entrerò long, sposterò degli equilibri, al contrario se sono a rischio gamma su una short put dovrò entrare short di future spostando gli equilibri del mercato. E sul mercato, poi lo vedremo con le altre slide, ci sono delle aree, sono aree che io chiamo a rischio gamma perché è evidente che ci sono degli automatismi, degli ordini condizionati che entrano e spostano e muovono molto il mercato. Potrebbe essere adesso il caso, adesso non ho il grafico in tempo reale, sono usciti adesso i no far pay roll quindi qualcosa sul mercato potrebbe essere successo. L'obiettivo di questo tipo di analisi è verificare e vedere quali sono queste aree precise di trigger, che chiamo di trigger sensibili al gamma. Allora è creata in questo modo, sulla sinistra ci sono tutti i contratti, questo qui è un grafico che rappresenta tutti i contratti di S&P 500, il future, sulla scadenza 20 ottobre. Come vedete sulla sinistra c'è il totale dei contratti, in rosso ci sono le put, il grafico è di ieri, batteva il prezzo, vedo 4.270 più o meno, adesso dovrebbe essere dentro da 4.3 e sotto tutte le put, sopra tutte le call, poi in mezzo c'è una certa area di ricopertura fra put e call che si equivalgono. In mezzo ai due istogrammi c'è un differenziale che visualizza quelle che sono le posizioni che sono entrate o uscite dal mercato da 21 giorni a questa parte. Come vedete molte put sono entrate al mercato, molte call sono entrate al mercato, ma tutte agli estremi dei prezzi, a 4.200, 4.250 sul lato put e 4.400 sul lato call. Queste posizioni che sono sul differenziale sono quelle a maggior rischio gamma perché sono da poco che sono entrate sul mercato, quindi non hanno ancora avuto modo di far sedimentare il loro vega e il loro gamma e soprattutto una greca di secondo ordine per chi fa opzioni che è il VOM. L'ultimo grafico invece è la cosiddetta mappa del rischio, ovvero è un grafico dove viene cumulato e pesato il rischio gamma su questo sottostante. In base a che cosa? In base alla quantità di call e di put che sono esattamente sul mercato. C'è un punto che si trova esattamente a 4.300 che è un punto che fa crossover, ovvero le call incrociano le put, quello sarebbe per il mercato dei derivati il giusto value, il giusto valore del prezzo. Quindi tutto ciò che è agli estremi è considerato a rischio gamma. A questo punto vi faccio vedere che cosa succede perché abbiamo parlato di VIX. Il VIX è un indice molto importante da seguire, però è un indice che è un po' lacunoso. Tra l'altro da poco hanno inserito anche il VIX one day a un giorno perché l'esplosione di contratti settimanali sulle opzioni giornalieri ha portato il mercato ad avere delle movimentazioni molto particolari, molto erratiche, molto erratiche che chi non è dentro al settore magari non se le riesce a spiegare. Allora io in questo grafico faccio vedere come le curve di volatilità sono sempre collegate alle cosiddette mappe monetari, quella che abbiamo visto prima. Ci sono tre smile di volatilità che sono applicabili sui mercati delle opzioni. Il primo è uno smile verde molto piatto, è uno smile che avviene quando il mercato si trova sulla parte altra di questa mappa monetaria a destra, ovvero tra la value area VA più 40 e value area più 80, dove il mercato ha un trend rialzista. Per cui noi sappiamo che la correlazione inversa del VIX è mercato che sale, VIX che scende, mercato che scende, VIX che sale. Poi il mercato quando non trova, quando non ha più un trend ma rientra nella propria area di equilibrio ha una sorta di respiro, di respiro che ce l'ha esattamente agli estremi di velo area zero, dove tutti gli interessi monetari sono a zero praticamente. il maggior numero di opzioni a rischio gamma scaderebbero senza valore. Soltanto quando il prezzo comincia a toccare un 30-40% di call, un 30-40% di put, allora si comincia a vedere quello smile, che è quello arancione, che si spestisce un pochino di più. L'ATM, ovvero dove batte il prezzo, sale, ma le cosiddette code grasse un pochino salgono ancora di più. Ma quando è che lo smile di volatilità si impenna veramente? Si impenna quando vengono rotti determinati livelli di gamma, soprattutto sul lato put, perché sappiamo che il mercato prezza più probabile un ribasso, anzi prezza un premio a ribasso più alto rispetto a quello che è un prezzo a rialzo. Per cui lo smile di volatilità tende a dispensirsi sempre sulla parte sinistra, ovvero sulla parte delle put. Quindi quando il mercato rompe questi livelli monetari è molto probabile che possa scendere. Allora nel prossimo grafico io ho fatto quattro foto alle quattro scadenze trimestrali, la marzo 2023, la giugno 2023, settembre e dicembre. E su tutte quante ho fissato esattamente il rischio gamma. Rischio gamma che me lo dà esattamente l'istogramma, quello che fa l'intersezione, che fa il crossover. Allora su marzo il rischio gamma era tra 3.800 e 4.200, ovvero il fair value del prezzo era all'interno di questo range. Oltre questi livelli sarebbero dovuti scattare in automatico delle azioni di ricopertura. Poi andremo a vedere nei grafici cosa è successo. Giugno 2023 il rischio gamma si è ristretto, il mercato si è un po' mosso, hanno alzato i supporti entrando con put sotto al prezzo perché probabilmente gli operatori erano interessati ad entrare al mercato con il sottostante, quindi il rischio gamma lo hanno fissato tra strike 4.000 e 4.200. Chiaramente il prezzo come esce da uno di questi due range va a toccare aree sensibili di gamma e rischia di accelerare per effetto di quegli ordini condizionati. Settembre rischio gamma 4.200 e 4.500 e dicembre 4.200 e 4.500, identico. Allora guardiamolo uno per volta. Questo è il grafico sul quale io ho applicato dei rettangoli che fanno vedere cosa è successo realmente in questi mercati, scadenza per scadenza. Il fervello l'avevamo visto che su giugno, su marzo, che apriva il 19 dicembre e chiude il 17 marzo, era intorno a 4.000 dove c'è la striscia più scura. Il mercato è partito molto basso, era molto debole il mercato e è rimbalzato dopo aver lambito quella prima area che era esattamente a 3.800 dove le prime put sarebbero state oggetto di ricopertura. Gli operatori non hanno ricoperto, anzi hanno alleggerito la componente future, il mercato se ne è andato su libero di muoversi all'interno di questo range che lo potremmo chiamare fair value. Ha toccato precisissimo quel livello di strike a 4.200 dove c'era il 30-35% di call, nessuno operatore è entrato in copertura e il prezzo è ritornato leggermente in basso, è ritornato in basso e ha chiuso esattamente nel cuore della propria area di indifferenza. La cosa diversa invece è successa nella scadenza successiva, ovvero la giugno 2023. Abbiamo avuto un'apertura a 3.993 e una chiusura a 4.466. Il punto più basso lo ha fatto a 3.932, quindi un mercato che è partito molto debole, ovvero gli operatori stavano prezzando qualcosa che in quel momento, quando giugno è entrato al posto di marzo, qualcosa non tornava nel loro fair value. Piano piano il prezzo è rientrato in quest'area di indifferenza, in quest'area di tolleranza. Poi a un certo punto gli equilibri si sono rotti. Esattamente dove? Esattamente a strike 4.200. Le prime call sono diventate TM, ci hanno provato tre volte con tre massimi consecutivi. Al terzo sono partite esattamente come succede spesso nei mercati dei derivati, una miriade di ordini condizionati per cui lunghe scie di platicurtosi nella distribuzione dei prezzi, aumento notevole di componente future fino a dove sono arrivati. Sono arrivati fino a un livello dove il 70-80% di call oramai non c'erano più da coprire. E quindi il mercato, come è arrivato ad area 4.500, sotto scadenza è ritracciato. Sotto scadenza perché? Non c'era più l'oggetto della copertura, perché se scade, scade il future, scade l'opzione. Quindi è ritracciato, è rientrato direttamente a settembre nella solita area di indifferenza e poi piano piano ha provato a rompere, sempre con lo stesso meccanismo di platicurtosi delle distribuzioni dei prezzi ed aumento dei future fino ad arrivare, questa volta non ce l'ha affatto a toccare il livello massimo che era la veloare a più 80, è arrivato più o meno a veloare a 60. Da qui non si sa per quale motivo gli operatori hanno cominciato a mollare la componente future che stava prestando il trend, per cui premeva sul tasto ask del book, per cui per alleggerirli hanno chiuso questi future e il mercato è ritracciato e rientrato all'interno delle proprie veloare. Attualmente il mercato, non so il prezzo che batte, qualcuno mi sa andare a un prezzo reale del mercato dopo i no far un payroll, così vediamo quello che succede, perché questa è la scadenza dicembre. La scadenza dicembre è stata fotografata esattamente il giorno in cui entrava in funzione dicembre e il mercato, come vedete, era centratissimo con un put con ratio, che sarebbe un rapporto fra quante put e quante call ci sono, molto superiori ad uno, ovvero un mercato che è in mano a compratori, ovvero compratori che entrano con il sottostante e come fanno molti fondi che gestiscono il rischio, comprano i titoli azionari, replicano l'indice e coprono con le put dello stesso indice. 4.224 in questo momento e c'è dello 0,78%. Per cui è sceso abbastanza, quindi sta già toccando quei famosi 4.22 che ora li vediamo qui. Questo è il grafico adesso fatto ieri, questo qui fresco fresco, dove si vede che il mercato ha rotto dei livelli abbastanza importanti, ma pur sempre all'interno della propria area di indifferenza. I veri livelli dove proprio la volatilità lì salirà veramente tanto, se romperà 4.2 e andrà ad insidiare quello strike importante di 4.100. 4.100 è uno strike veramente importante, da lì il grosso delle ricoperture potrebbe far esplodere la volatilità, mi auguro, non come nel 2020, ma la farà senza altro salire. Io credo di aver terminato questa prima parte per adesso. Grazie Bruno, intanto guardavamo anche i dati, come commentavo con Gaetano, altro che recessione. L'ultima cosa, mi sono dimenticato per quanto riguarda il VIX. Io monitoro anche il VIX, non è che non lo monitoro, monitoro i posizionamenti monetari e posso confermare che il VIX da 10 giorni a questa parte, non si sa perché. Ha cominciato a vedere un afflusso di put sotto al prezzo, a strike 15, 16, 17 e future in aumento perché qualche portafoglio nazionale aveva probabilmente bisogno di coprire il rischio volatilità del proprio portafoglio. Probabilmente in un farm per all ci chiariranno le idee, non so se ci saranno altri dati poi nel corso della prossima settimana. In un far però ci dicono che le buste paga nel settore non agricolo sono aumentate di 336 mila unità rispetto ai 170 attesi, quindi tanta roba. Tanta roba, vero Francesco? Te l'aspettavi? Ma più o meno è in linea con quello che ho detto, cioè che il mercato continua a sbagliarsi sul discorso recessione e continua a sbagliarsi sul discorso tassi. Bisogna capire se quel grafico che ho fatto vedere per ultimo, quello della famosa catastrofe a cuspide che è una formula matematica, non è una idea di analisi, a un certo momento crea una tensione tale da creare un imbalance nel mercato azionario per cui i prezzi a un certo momento rompono a ribasso. Io sono allineato anche veramente a quello che ha detto Bruno anche per quello che riguarda il discorso dei livelli del VIX. Per conto mio ci sono due livelli adesso, uno è l'area del 21 e qualche cosa sul VIX e l'altro è quella del 25 che è sempre un livello veramente importante, sia per il VIX che per i two stocks, diventa un livello critico perché ci sono molte strategie di vendita di opzioni piena di contratti call. Piena di contratti call, infatti, assolutamente, infatti. Quindi stiamo a vedere. Stiamo a vedere. Il ritorno da Gaetano, prima abbiamo visto la relazione tra economia e borse, ecco parlando di tassi sicuramente ha penalizzato, va a penalizzare tra gli indici quello legato ai tecnologici, il Nasdaq, però quello che stiamo osservando sul mercato che sta tornando a sovraperformare il resto del mercato. Tornando indietro, gli indici principali complice alla salita dei rendimenti, anzi scusate, complice alla salita dei magnifici set, i big tech, vede sia il Nasdaq che l'S&P 500 a doppia cifra all'inizio dell'anno, già ai primi mesi di quest'anno. Il Nasdaq lo possiamo definire il grande vincitore del primo semestre e, come dicevo, ora sta ritornando a sovraperformare il mercato. Me lo confermi, Gaetano? Sì, Annabella, ha avuto un momento di appannamento da giugno in poi, quindi tre, quattro mesi di stazionarietà, quindi di incapacità di ripetere le ottime performance che ha messo a segno nel primo semestre, complice direi anche oggettivamente una condizione, come diciamo noi analisti tecnici, di ipercomprato, quindi di eccesso, quindi di crescita eccessiva rispetto ad una capacità, ad una sostenibilità ordinaria. Qui vediamo un parametro molto banale che è lo scostamento del Nasdaq 100, in questo caso da un riferimento che è la media mobile a 200 giorni di questo indice. A luglio in estate c'era un divario di oltre il 25%, che è una misura veramente importante, eccessiva, che poi spiega l'involuzione assoluta e relativa che poi abbiamo sperimentato. Fa niente che l'ultimo precedente analogo risalga al 2020 e in quella circostanza comunque il mercato andò incontro anche allora ad una fase non direzionale, ad una lateralità, come si dice in gergo, prima poi di ripartire in maniera molto violenta, quindi sconfessando le previsioni di un ribasso alimentato da questo ipercomprato. In effetti questa è un po' una leggenda metropolitana, quindi una falsa assunzione non basata poi sull'osservazione, tant'è vero che in questa slide vediamo una prospettiva storica sul Nasdaq 100 di tutti i casi di percomprato definito in questi termini, quindi di allontanamento eccessivo da questa orbita, se mi passate il termine, evidentemente inizialmente nel primo mese spesso c'è una reazione sfavorevole, quindi il mercato avverte queste vertigini, questa mancanza di ossigeno, però vedete col passare dei mesi, 3, poi 6, poi 12 mesi, i segni rossi vanno scomparendo fino a eliminarsi del tutto. Un anno dopo un ipercomprato importante come quello della scorsa estate, il mercato tecnologico, quindi il Times Square, non ha mai perso terreno su una dozzina di rilevazioni da quando disponiamo di questo indice, quindi l'ipercomprato è una prova di forza, non è una prova di debolezza, quindi se il mercato, se il Nasdaq scenderà, se i benefici 7 scenderanno, sarà per tutt'altro motivo, ma non certo per l'ipercomprato, che casomai è un fattore che spiega, che motiva una vitalità di fondo e quindi non è quello che cerchiamo se vogliamo trovare un pretesto per giustificare un ribasso duraturo delle quotazioni tecnologiche. Allora quale potrebbe essere? Un agosto deludente, per esempio, lo Standard & Poor's 500 viene da tre settimane, ha perso terreno per tre settimane di fila ad agosto, sorprendendo, deludendo molti, visto che nei primi 7 mesi dell'anno aveva conseguito una crescita superiore al 10%, quindi il 2023 si iscrive in questo club ristretto di annate che hanno visto lo Standard & Poor's 500 crescere di oltre il 10% nei primi sette mesi dell'anno. Qui vediamo il profilo medio del secondo semestre, quindi per meglio dire dal primo settembre in poi dopo questo setup, quindi almeno tre settimane negative ad agosto precedute da un primo periodo da sette mesi a tambur battente, quindi di grande crescita. Evidentemente dopo una fase di un paio di mesi, settembre-ottobre, evidentemente di consolidamento, di smaltimento delle tossine accumulate, il profilo medio, basato su tutta la prospettiva storica, è estremamente appagante, estremamente convincente in termini favorevoli, quindi la negatività temporanea e stiva tende a essere riassorbita. E questo è un dato. Un altro dato, Bruno parlava di volatilità, quindi lo chiamo in causa in qualche modo perché ho notato da tempo come l'andamento del VIX di quest'anno ricalchi fedelmente, veramente in maniera impressionante, l'andamento del VIX, quindi della volatilità implicita di mercato, di tre annate ben precise, che sono il 2009, il 2003 e il 92. Evidentemente in questo grafico alla linea dorata, diciamo, la linea Senape è l'andamento del VIX di quest'anno, a confronto con l'andamento medio di queste tre annate, ovviamente il punto di partenza uguale a 100 per omogeneità. E qui vedete come in effetti era attesa una fiammata di volatilità, quindi questo impennarsi del VIX delle ultime settimane rientra in questo script, in questo copione che conoscevamo da tempo perché ci aspettavamo, primo, un VIX in ripartenza, secondo, ci aspettavamo, e questo è un aspetto interessante per i prossimi tre, quattro mesi, un VIX che dovrebbe invece a questo punto ripiegare e tornare verso i minimi, se non sotto i minimi di questa estate. Evidentemente capite bene come questo andrebbe poi di pari passo con un miglioramento del mercato anziché no. Un ultimo aspetto, poi sono felice di passare la parola a Francesco, riguarda quest'ultima slide. Negli ultimi giorni qualcuno vocifera, ma potrebbe essere un nuovo 87, anche allora come oggi i tassi di interesse crebbero tanto, ma questo andrebbe molto circostanziato e quindi lasciamo stare questo discorso, però ecco, ci sono sempre stati negli ultimi 13-14 anni dei tentativi di sovrapposizione di ogni singola nata con l'87. Io vi propongo un esempio molto molto più ravvicinato che è il 2021, quindi appena due anni fa, e vediamo che lo Sunderland Pool 500 sta ricalcando in maniera impressionante l'andamento di due anni fa, quindi senza andare troppo lontano, stiamo replicando, stiamo ricalcando quello che due anni fa ha fatto il mercato. Non solo l'andamento, ma anche i punti. Il 4 ottobre, 5 ottobre, 6 ottobre di due anni fa, lo Sunderland Pool vale esattamente quanto oggi, 4.250 punti largo circa. E quindi per concludere, questa volta è diverso? Speriamo di no, speriamo che il mercato ricalchi la storia come l'analisi tecnica ci conforta, anche se non in maniera fedele, che quindi possa ripetere questi schemi comportamentali che ci conforterebbero in quest'ultimo trimestre. Finisse come nel 2021, sarebbe sicuramente male. Francesco, allora chiedo anche a te che possibilità statistiche ci sono, che può fare il mercato negli ultimi tre mesi dell'anno? Ma in realtà noi ci siamo messi d'accordo, le slide che non ho portato io le ha portate lui, e quindi a questo punto io faccio vedere le altre slide. Allora, un attimo che arrivo sulla presentazione giusta. Allora, presentazione standard? Sì, questa qua. Perfetto. Sì, certo. Grazie, scusa. Eccoci qua. Allora, Io uso una tecnica molto semplice, sempre basata sul rapporto tra l'indice e la volatilità, per andare a capire quando esiste una occasione di acquisto contro trend per il mercato azionario, e questa tecnica è fatta semplicemente dividendo l'indice per i suoi indici di volatilità, quindi in questo caso S&P 500 diviso VIX, oppure per l'Europa Eurostock 50 diviso VSTOX. Applicando poi una fascia di media, la cui distanza è basata sull'everage through range, cioè su un concetto matematico molto intrinseco all'analisi tecnica, a quel punto creo un modello che mi dà in automatico i segnali di buy. Qui vedete che il segnale di buy per scattare deve essere innescato da una discesa che porta il mercato, o meglio questo spread, questo titolo sintetico formato dal ratio tra S&P e VIX, a un livello di panico. In questo caso preciso, il livello di panico fino a due giorni fa non era stato toccato, oggi vediamo un pochettino se viene avvicinato. Io avevo fatto il calcolo due giorni fa, dovrebbe arrivare la linea blu del panico, passa più o meno per 195, quindi è abbastanza facile fare il calcolo S&P diviso VIX, più o meno verrebbe che con un S&P a 4.150 dovrebbe esserci un VIX a 21,30. Però se noi abbassiamo il livello dell'S&P, possiamo chiaramente poi fare anche altre valutazioni sul livello del VIX per riuscire ad arrivare lì. Quello è il prerequisito. Poi ovviamente deve ritornarci sopra, quindi altrimenti potrebbe succedere, come ha detto Bruno, una specie di buco di mercato breve ma cattivissimo, come nel 2020, dove c'è stata la perforazione della linea di panico, ma poi il rientro dentro questo fascio di medi è avvenuto dopo alcune settimane. Quindi non bisogna mai cercare di prendere il famoso coltello quando cade, soprattutto in queste situazioni, ma ci sono tutte le modalità per capire quando c'è una situazione di questo tipo. Qui vi faccio vedere la questione da un altro punto di vista. Questo è l'S&P 500, è un grafico tratto dal motori grafico del nostro sito. Quello sotto, il secondo, è un modello direzionale proprietario che si chiama Heisenberg. La cosa interessante qual è? È che i segnali migliori di By the Deep con questo Heisenberg arrivano quando finisce un segnale short. E adesso siamo in un segnale short, quindi quando praticamente arrivano quegli istogrammi blu lunghi, più elevati, a quel punto ci sono, come vedete, dei segnali di By the Deep veramente spettacolari. Allora, adesso abbiamo la fortuna di essere short, e quindi io aspetto con ansia, pazienza, ma disciplina, che arrivi un segnale di uscita dalla posizione short. Stessa cosa per l'indicatore sotto, che è un altro indicatore proprietario, grosso modo simile all'RSI, che si chiama trigger, che è andato anche questo in zona di By. E quindi ci sono due indicatori che sono andati in zona di By, ma non hanno ancora dato il trigger. L'altro indicatore è quello di volatilità che stiamo aspettando che arrivi in zona di By. E qui per andare in linea con quello che è stato fatto anche da Gaetano, faccio vedere qual è stata la contribuzione del quarto trimestre sui principali mercati, in percentuale rispetto al ritorno medioannuale. Mi spiego. Se tu dividi l'anno in quattro trimestri, dovresti avere una contribuzione uguale, 25, 25, 25, 25. In realtà non è così. Ci sono trimestri che hanno una contribuzione molto diversa. E in particolare il Q4 ha, su alcuni mercati, una contribuzione profondamente diversa. Vedete che praticamente qua, sull'XCHA, che è quello cinese, ha una contribuzione doppia, cioè contribuisce al 56,25 della performance annuale. Sull'SMI è quasi al 50%, sull'SMP è abbastanza in linea, 27 contro 25, Nikkei 33, il Nasdaq curiosamente sotto media, quindi il Q4 non è come tutti pensano sul Nasdaq, quello che performa meglio, ma è quello che statisticamente performa un po' meno degli altri. Ma il MIB è devastante. Senza il Q4 il MIB sarebbe un mercato praticamente estinto. Poi c'è il Dow Jones che è più o meno leggermente sopra media, l'Eurosto 50 che è abbondantemente sopra media, e il DAX che è sopra media. Quindi il Q4 è molto importante per la contribuzione alla performance media annua. C'è un dato che non ho messo, che vi voglio dire perché appartiene poi all'ultima slide della mia presentazione, che è quello dell'euro-dollaro. Il quarto trimestre dell'euro-dollaro è veramente il trimestre in cui l'euro performa meglio rispetto al dollaro, ma in questo caso particolare si scontra con uno dei segnali di inversione più potenti che io abbia visto in 30 e passa anni di vita, dove i primi sono stati tutti dedicati alle valute, che quindi io ritengo essere il mercato che conosco meglio. Ma facciamo un passo alla volta. Prima anche Gaetano ha parlato dell'importanza del Nasdaq, qui ve la faccio vedere, e viene ancora fuori come una botta nelle ginocchia l'importanza di questo indice e soprattutto degli otto titoli che lo guidano. Allora, noi abbiamo creato da molti anni un indice, due indici, che si chiamano, uno è quello che tutti conosciamo, FANG, però non è l'indice FANG. Noi abbiamo preso i titoli equiponderati, quindi non in base alla loro capitalizzazione di borsa, e nel secondo indice, che è l'ultra big, abbiamo aggiunto anche Tesla, Microsoft e Nvidia, per cercare di capire veramente dove risiedeva il denaro del mercato, dove si spostava il denaro del mercato. Voi vedete di fianco quello schematto con i numeri, sono le percentuali di soldi che muovono, quindi volume per prezzi, questi titoli sul mercato in rapporto ai primi 55 titoli, al totale dei primi 55 titoli del mercato americano. Stiamo parlando di più del 60%. Senza questi titoli il mercato non si muove. Questi sono i titoli da guardare per capire il mercato. Come diceva Bruno, il 70% delle transazioni è algoritmica, è legata agli ETF, quindi questo è un grafico estremamente importante. Da inizio anno l'indice degli ultra big, che è quello rosso, si è raddoppiato. L'indice dei FANG è salito del 50%, contro un modestissimo 10, più o meno 10-11% dell'S&P. Stiamo parlando di numeri completamente diversi. Quindi l'analisi è qui che deve essere fatta per capire le altre cose. Termino proprio con quello che ho detto prima, cioè sull'euro-dollaro. Un segnale molto simile è arrivato anche sul dollar index, comunque ovviamente ribaltato, perché il dollar index si muove in questo caso al rialzo. È un gancio di vendita di un indicatore proprietario mio che si chiama C-Wave, che io ritengo essere il miglior indicatore ciclico che c'è in questo momento sulla fronte dell'analisi tecnica. Questo C-Wave è un indicatore che tra l'altro funziona alla base di un sistema controdirezionale, ma che in questo momento ha dato un segnale di vendita sull'euro-dollaro molto importante. Una chiusura mensile sotto 1,04 nel Q4 proietta l'euro-dollaro verso, ma probabilmente anche sotto la parità. Fine. Grazie. Grazie a voi. Tutto molto interessante. Noi dobbiamo lasciare la sala. Io ringrazio Francesco Caruso, Bruno Nappini, Gaetano Evangelista. Grazie mille a tutti voi per averci seguito. Grazie mille a tutti.